Ben trovati, ben trovati con un Caffè Con, la nostra rubrica che ogni giorno ci consente di scambiare quattro chiacchiere con alcuni tra i principali esponenti politici del territorio marchigiano. Oggi siamo ad Ascoli, ho il piacere di avere con me il neo, assessore comunale con diverse deleghe, in particolar modo al verde pubblico, alle piste ciclabili e al ciclo dei rifiuti, Attilio Lattanzi. Ben trovato assessore. Buongiorno a tutti. Allora innanzitutto grazie per essere qui, passato ormai quasi un mese dalle elezioni, passate un paio di settimane invece dalle, anzi no, una decina di giorni dalla nomina della nuova giunta, insomma questo incarico che le è stato assegnato dal sindaco Marco Fioravanti, l'assessorato come l'ha accolto? Molto bene, per me è un grande onore ricoprire questo ruolo, grande fiducia a livello sia personale che politica nei confronti del sindaco Marco Fioravanti al quale mi lega un bel rapporto personale. Devo dire che quando un paio di anni fa abbiamo rimesso su il discorso della lista civica, lui mi ha convinto prima a livello personale e poi a livello politico a riprendere questo discorso. Tra l'altro Attilio Lattanzi lei reduce da una tornata elettorale davvero di grande successo, no? Perché ha riscosso tante preferenze e devo dire che questo da parte sua è stato un bel attestato di stima. È stato un bellissimo risultato soprattutto quello della lista, il mio ringraziamento più grande va a tutti i ragazzi e le ragazze che si sono impegnate in questo percorso, in questo fantastico progetto. Grazie a loro abbiamo raggiunto il quasi 6% delle preferenze e quindi poi a cadere abbiamo raggiunto anche dei bei risultati a livello di preferenze personali, però il mio più grande ringraziamento va a tutto il gruppo della lista, con il quale abbiamo poi puntato giù tantissime idee, abbiamo presentato il programma al sindaco e guarda caso diverse cose che poi riguarderanno anche la mia delega. Allora tra poco ne parleremo, però volevo ancora una volta evidenziare questo grande risultato elettorale, no? Lattanzi dovuto anche all'ottimo lavoro probabilmente che lei ha svolto in circa 20 anni di impegno politico, non è mai stato assessore, ma ha svolto diversi ruoli ovviamente soprattutto in Consiglio Comunale, già tanti anni fa era Presidente di Circoscrizione, quindi voglio dire un successo che nasce da lontano. Sì, sono partito nel 99 con Piero Celani sindaco in circoscrizione, come Presidente di Circoscrizione abbiamo fatto due mandati insieme e lì c'è stato davvero il punto di partenza di tutta questa esperienza che mi ha permesso poi negli anni di crescere anche a livello proprio politico-amministrativo. Una vera scuola di vita, quella di circoscrizioni che permetteva di fare filtro con la cittadinanza e di essere di aiuto per l'amministrazione. Poi dieci anni di Consiglio Comunale con Guido Castelli che anche lì è stata un'esperienza eccezionale che tengo davvero in un cassetto e che all'occorrenza ritirerò fuori in questa nuova esperienza di assessore. Allora parliamo un po' di delega, intanto qui abbiamo delle macchie riguardanti appunto la città di Ascoli. Parliamo anche un po' di delega, come dicevo, ovviamente è stata assegnata la cura del verde, fra l'altro lei è sempre stato molto vicino a questa tematica nel quartiere di riferimento, nel quartiere di Porta Solestà, ha sempre lavorato anche insieme a tanti volontari per la pulizia del territorio, quindi ha sempre tenuto molto all'aspetto ecologista. Ecco, mantenimento, cura del verde, rifiuti, piste ciclabili, tante deleghe importanti che guardano proprio verso il green. Sì, chiaramente la delega più importante è quella che riguarda il ciclo dei rifiuti, che è una delega pesante, importante e che ha tantissimi obiettivi, fra cui il primo che mi viene in mente, parlando con gli uffici e con Ascoli Servizi Comunali, è il discorso dell'attuazione dei progetti, il PNRR e del MASE, i rapporti con il Ministero dell'Ambiente, dove si andrà chiaramente a lavorare per quanto riguarda la raccolta differenziale, ci saranno delle modifiche molto importanti che cercheremo di attuare da qui a breve. Altra cosa su cui tengo molto a precisare è il discorso delle piste ciclabili, che ci sono stati davvero degli investimenti molto importanti, quasi 10 milioni di euro, fra lavori conclusi e lavori in essere e lavori da appaltare. Lavori in essere, il più importante di quasi 3 milioni di euro riguarda la ciclo predonale lungo Castellano e rete ciclabile urbana, che la prossima settimana andrò insieme all'ingegner Marconi e all'ingegner Galanti a visitare proprio in cantiere per rendermi conto lo stato d'attuazione dei lavori. Verranno anche, diciamo così, previsti nuovi tratti? Sì, sono previsti nuovi tratti, diverse sono le situazioni che inizieranno a breve e c'è soprattutto in corso un bellissimo tratto della zona di Porta Gemina, dove ancora c'è uno studio di fattibilità per un importo di circa 700 mila euro. Quindi ci sarà una città che dal punto di vista della mobilità sarà sempre più sostenibile? Assolutamente sì, è una grande scommessa, quello che si offre avanti, io sarò al suo fianco per portare avanti in maniera forte e determinata questa realtà. Possiamo dire che quindi il neossessore Lattanzi non ha perso tempo, si è messo immediatamente al lavoro, com'è stato il primo contatto con gli uffici? Con gli uffici il primo impatto è stato a dir poco eccezionale, ho trovato persone di qualità, sia da un punto di vista umano che soprattutto da un punto di vista professionale, il mio ringraziamento per l'accoglienza va in primis al dirigente, all'ingegnere Maurizio Piccioni e a tutto il suo staff, davvero delle belle persone con le quali sono convinto che faremo un bel lavoro di squarra. Come saranno questi cinque anni di mandato? Saranno molto impegnativi, ci metterò tutta la mia determinazione, la mia voglia di fare per il bene della città in maniera coerente, corretta e saremo sempre al servizio dei cittadini e ascolteremo prima di agire. Una cosa importante è che a breve insieme al dirigente faremo anche un incontro con la FIAB, perché uno dei primi obiettivi è quello di redigere un piano urbano della mobilità sostenibile per il quale è già in ballo un finanziamento della regione di circa 80 mila euro e noi vorremmo attingere a questo finanziamento per poi poter fare questo piano a stretto giro di tempo. Quindi abbiamo parlato insomma degli obiettivi più imminenti, invece se lanciamo lo sguardo un po' più avanti, in questo mandato che durerà cinque anni, mandato quinquennale, insomma quale sarà il sogno che l'Attanzi intende realizzare per la città? Se guardiamo all'ambiente non si può non pensare alla zona ex carbon, quindi anche se non è una delega esplicitata in maniera analitica nell'elenco delle mie deleghe, ma la zona ex carbon sarà un argomento principe e di grande sfida per la prossima amministrazione. proprio il pomeriggio ho partecipato ad un tavolo di concertazione e di idee di lega ambiente dell'imbottego del terzo settore, c'era una bella area, si respirava davvero molto, molto, molta positività e sono convinto che uscirà qualcosa di buono per ridare quel terreno, quei tanti ettari alla cittadinanza scolana perché rappresenta un polmone molto importante per noi. Quello rappresenta anche un fulcro importante per tutta la città, della riqualificazione dell'area ex carbon, si parla ormai da decenni, ovviamente c'è stato anche l'impegno del commissario Vadalà, insomma a che punto siamo effettivamente? Siamo al punto che il discorso dell'intervento di Vasco di Prima Pioggia ormai è in fase conclusiva e si inizia a pensare a come procedere per il resto dell'intervento e soprattutto in relazione a quello che possono essere i costi effettivi della bonifica per poi andare a realizzare una serie di interventi che non preveda chiaramente esclusivamente in maniera massiccia un discorso meramente di costruzione di edilizia ma di ridare al nostro comune anche zone di servizio uguale verde attrezzato piuttosto che complementare anche per attività sportive, immagino una palestra all'aperto ad esempio. Eh beh sarebbe sicuramente un ottimo progetto, tornando al discorso invece relativo alla raccolta differenziata spesso abbiamo sottolineato che comunque ad Ascoli c'è stato sempre più un aumento della percentuale della differenziazione dei rifiuti quindi mi sembra di capire che l'obiettivo è quello di incrementarla ulteriormente ma attraverso quali meccanismi insomma si procederà anche un po' a una maggior sensibilizzazione della popolazione, qui abbiamo visto alcune immagini intanto relative all'ultima elezione, l'immagine era sul candidato sconfitto Emilio Nardini, dicevamo quali saranno i prossimi step? Eh chiaramente il prossimo step è quello di dare attuazione a questi progetti del PNRR del Mase, del Ministero dell'Ambiente in maniera tale che si possa migliorare diciamo l'aspetto della raccolta magari andando a incentivare il cittadino con una scontistica sul discorso dell'Atari, quindi cercando proprio di sensibilizzare sempre di più la raccolta differenziata incentivandola proprio come dicevo su più riciclo, più faccio differenziata, più magari una scontistica sulla tassa dei rifiuti. Tra l'altro questo argomento al quale la famiglia Lattanzi è legato praticamente da sempre perché se non ricordo male insomma fu anche il fratello di Attilio Lattanzi e Luigi quando era assessore a introdurre delle novità proprio sulla raccolta differenziata, quindi un argomento al quale siete molto sensibili. Sì, Gino ha fatto l'assessore per due mandati con Castelli all'Ambiente e quindi sicuramente avrò bisogno dei suoi consigli per portare avanti alcune situazioni che sono in esse. Era l'occasione insomma per salutarlo. Prima di parlare anche di Quintana perché non dimentichiamoci che Attilio Lattanzi è anche il capo Sestiere di Porta Solestà e volevo soprattutto puntare l'attenzione sui tanti progetti che avete portato avanti nel sociale. Volevo chiedere appunto all'assessore insomma cosa si sente di dire alla popolazione a poco meno di un mese insomma dalle ultime elezioni, a pochi giorni dalla sua nomina appunto in giunta. Qual è il messaggio che si sente di lanciare a chi l'ha votata ma anche a chi non l'ha votata? Ringrazio innanzitutto tutti quelli che mi hanno sostenuto perché non facendo parte dell'amministrazione prendere 366 voti, ossia un voto al giorno per il 2024 in quanto un anno bisestile, è davvero stata una bella impresa, è un riconoscimento personale più che politico e di grande stima e di questo ne vado orgoglioso. Il nostro motto era con la gente per la gente stare in mezzo al popolo e ascoltare, non sentire ma ascoltare, fare filtro e poi portare avanti tutto quello che c'è da portare avanti in maniera molto forte e determinata. Oggi sul resto del Carlino c'è un'intervista al vice sindaco Massimiliano Brugni che dice attenzione al sociale, più case popolari e anziani da tutelare, insomma che squadra ha trovato a Tirio Lattanzi in questa giunta? Ho trovato un ambiente familiare, cosa chiaramente non da poco e cosa non scontata nell'ambito politico, mi sono sentito subito a mio agio, chiaramente conoscevo tutti quanti i membri della giunta e sono convinto che faremo un bel lavoro di squadra insieme al nostro sindaco Marco Fioravanti. Allora apriamo anche il capitolo Quintana perché come dicevo Attilio Lattanzi è anche capo sestiere di Porta Solestà, un sestiere il vostro che si è contraddistinto nel corso degli ultimi anni, oltre che per i vari successi tra sbandieratori, quintane e altre specialità si è contraddistinto anche per i progetti che avete portato avanti nel sociale. Noi in alcune tappe ad esempio abbiamo partecipato agli ultimi eventi che avete organizzato, quelli relativi alla sensibilizzazione contro i tumori, insomma ecco, com'è nato questo impegno nel sociale da parte di un sestiere della Quintana? È nato grazie ad una situazione personale di un carissimo amico che è Giuseppe Silvestri che è un giornalista, quindi è un tuo collega che tu conosci molto bene, è nato per caso in occasione di una brutta esperienza da parte sua, io era proprio l'anno del Covid, lo chiamai e gli dissi caro Giuseppe è ora di rimettersi in azione per fare il giornalino, ripartiamo, si fa la Quintana, quindi mi curava sempre il discorso del giornalino del sestiere e lui mi disse attività, io sto in ospedale, ho un tumore in testa e quindi lì gelo, clamoroso, per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi, da lì è nato una forte, un forte legame con la Lilt di Siena e ringrazio la Presidente Gaia Tancredi per la sua grande disponibilità che ha avuto a venire ad Ascoli e collaborare in prima battuta con il sestiere di Porta Solestà per poi passare quest'anno addirittura a, oltre a un altro sestiere della mia cara amica Mariangela Gasparrini di Sant'Emidio, abbiamo coinvolto anche due castelli, Venarotta e Montegallo. Andar a fare visite a Seno, oltre 40 visite a Seno, gratuite, visite quindi si intende ecografia e visite al Comune di Montegallo dove io personalmente ero lì insieme al Sindaco Sante Capanna che saluto, ho visto tante donne che erano davvero oltre dieci anni che non si visitavano e quindi abbiamo fatto centro. Possiamo dire che avete aperto anche un nuovo percorso nel settore della Quintana, nel mondo della Quintana? Abbiamo aperto un altro percorso, sì. Avete fatto capire che oltre a una rievocazione storica può essere anche uno strumento importante. Assolutamente, intanto è vero che col passaggio poi al terzo settore che abbiamo avuto tutti e sei sestieri in maniera condivisa ed in maniera univoca il 15 dicembre col passaggio dal notario Calvelli, noi rappresentiamo davvero nel territorio dei punti di riferimento molto forti. Tanto è vero che poi ogni volta che c'è un bando magari a cui rispondere ci proponiamo con i nostri progettisti di fiducia e cerchiamo di cogliere le varie occasioni per portare avanti sempre nuove idee. Proprio ieri abbiamo fatto una conferenza stampa all'imbottega del terzo settore. Eccola qua, una giosta più inclusiva dalla musica ai laboratori. La cosa che ci fa più piacere è che oltre all'aspetto economico, chiaramente che non è secondario, ma l'aspetto principale per noi è il riconoscimento da parte della Fondazione Cassa Risparmio della validità dei nostri progetti nell'ambito sociale. Questo è un progetto molto qualificante che porteremo avanti da luglio, da metà luglio fino a ottobre. Come si svolge? In cosa consiste? Guardi, le cose principali sono il 27, avremo una serie di laboratori interattivi e di inclusione perché la cosa a cui tengo di più è che c'è una forte rete di partner dove partecipano l'Aism, c'è la Piceno non vedenti, c'è il centro ippico di Massimo Lori, c'è la Giovene Europa e c'è chiaramente anche la partecipazione come partner dell'amministrazione comunale dove noi il 27 grazie a dei laboratori riusciremo a far indossare dei vestiti ai turisti, a far indossare dei vestiti ai ragazzi dell'Aism, ai ragazzi della Piceno non vedenti, gli faremo suonare il tamburo, gli faremo volteggiare con la bandiera per poi passare anche alla fase di una degustazione di una cena medievale con tematiche proprio opportune, collateralmente faremo delle musiche medievali grazie a dei nostri professionisti nel campo. Il secondo appuntamento invece è il discorso di far salire a cavallo il giorno della cerimonia Le Ceri, dalle 17 alle 19 i turisti, anche qui oltre a mettere a disposizione un cavallo per i turisti metteremo a disposizione anche per i ragazzi ipovedenti e quelli che hanno delle grandi difficoltà. La cosa più qualificante che faremo è un museo visitabile a tutti e lo apriremo verso metà ottobre una volta che ci verranno riconsegnati i pali della mostra in essere presso la Pinacoteca. Per chiudere, quest'anno la Quintana festeggia il settantennale, tra l'altro sabato avrò il piacere di avere come ospite il Presidente del Consiglio degli Anziani Massimo Massetti, insomma per un Ascolano verace come lei, Lattanzi, cosa significa festeggiare i 70 anni della Quintana? È una grande gioia, sono Quintanaro da sempre, la prima Quintana l'ho fatta nel 75, quindi sono quasi 50 anni fa, sono sicuramente un veterano della manifestazione, sono Quintanaro dentro e mi approssimo a queste due Quintane con grande amore, grande affetto e con grande emozioni, visto che saranno le ultime due Quintane della Cavo Sestiere. Eh vabbè, anche perché c'è ovviamente poi la incandidabilità, no? Proprio a causa di questa sua nomina da Assessore, fatto sta che comunque o da Caposestiere o da Assessore Artilio Lattanzi continuerà sempre a lavorare per il bene della città. Assolutamente sì. Allora io la ringrazio innanzitutto per essere stato con noi in questo nostro appuntamento, le auguro buon lavoro anche perché mi sembra di capire che da sbrigarne ce n'è parecchio, no? Quale sarà il prossimo step proprio immediato? Prossimo step, domani andrò insieme all'ingegnere Piccioni, proprio come dicevi te prima, a Porta San del Pida a ritirare la seconda bandierina gialla. Ah, vedi. L'ingegnere giustamente mi diceva qui non ci dobbiamo fermare, l'obiettivo per un altro anno magari è quello di prendere la terza organizzando noi la manifestazione, la consegna alle bandierine. L'obiettivo è quello di crescere, quello di cercare di migliorare sempre in maniera calibrata ed equilibrata le situazioni con grande attenzione. settimana prossima, due appuntamenti, uno vado a visionare la discarica insieme all'ingegnere Piccioni e al presidente di Ascoli Servizi Comunali e farò questo sopralluogo l'ingegnere Marconi nel cantiere della ciclabile di Lungo Castellano e della rete ciclabile urbana. Grazie Assessore Lattanzi, buon lavoro. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti voi per averci seguito, un caffè con termina qui, l'appuntamento si rinnoverà ovviamente domani tutte le mattine alle 8.30 in replica alle 14 del pomeriggio. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.